Ciao a tutti, vediamo 5 semplici modi per mostrare estrema sicurezza. Allora, il primo modo fondamentale è quello di guardare negli occhi una persona e fare un leggero sorrisino ironico. Questo vale sia per uomini che per donne, perché dimostri subito di avere un valore superiore perché non solo guardi negli occhi ma li ridi pure in faccia, nel senso che dimostri di avere un valore superiore, una sicurezza nei confronti dell'altra persona. Questa è una cosa interessante. Poi un'altra cosa che devi fare, sempre a livello non verbale, perché la sicurezza traspare a livello non verbale, è avere delle posture rilassate, non stare teso, rigido, tesa, rigida. Se sei donna, devi seduta, sdraiata, allungata, accavallamento delle gambe, tranquilla, oscillando un po' la gamba. Se sei uomo, anche una posizione tranquilla, in questo modo, mentre guardi le persone aperte, con le gambe aperte, un po' se si riesce, comunque, una posizione di questo genere, mentre parli, guardi una persona, dimostra subito estrema sicurezza. Quindi la comunicazione non verbale è questa qua. Quindi lo sguardo, il primo punto, la postura è rilassata. Se sei, diciamo, in piedi, anche lì devi avere, devi mantenere, sia che sei uomo che sei donna, diciamo, devi mantenere sempre la postura eretta, le spalle rilassate, non tese, in modo tale che siano parallele, qua devono passare due rette parallele, mai le spalle che stanno in questa posizione perché denotano insicurezza. Lo sguardo, il mento, deve essere sempre allineato, parallelo al pavimento, mai così, neanche eccessivamente così, parallelo al pavimento, una retta che passa di qua deve essere parallelo al pavimento. Quindi la comunicazione posturale è importante. Poi un'altra cosa fondamentale è l'ironia. Quando parli devi essere ironico. Deve essere ironico, usare battute, sdrammatizzare, sdrammatizzare tutte le situazioni, in qualunque circostanza, il terzo punto, l'ironia è fondamentale. È fondamentale perché puoi far passare delle penalizzazioni, puoi far passare un sacco di cose che altrimenti resterebbero lì bloccate e ti impedirebbero di dimostrare, di essere veramente, come dire, sicuro o sicura di te. E poi il quarto punto è l'irriverenza. Bisogna diventare un po' irriverenti. Soprattutto verso le persone, diciamo, di potere, eccetera, le persone che si credono in chissà chi. Bisogna essere un po' irriverenti. Cosa vuol dire? Essere irriverenti vuol dire, ad esempio, parlare ad un volume di voce un po' più alto di quello del tuo interlocutore. Tu senti a che volume parla lui, tu parli a un volume più alto. Se quello urla, invece, no, fai il contrario. Usi una voce molto bassa, ferma, lo guardi negli occhi, non è tale da bloccare ogni tipo di situazione. E mostri estrema sicurezza il quinto, ultimo punto, se sei empatico, cioè se sai capire le emozioni delle altre persone, sai amplificare. Gli amplifichi. Gli amplifichi perché se amplifichi l'emotività che le persone vivono, diventi un erogatore di tensioni emozionali e quindi questo ti fa apparire subito, immediatamente, rapidamente, sicuro o sicura di te stesso o di te stessa. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti a questo canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.